Ricordo che tu hai detto, e te lo dico con tranquillità, proprio qui in centro studio, proprio di fronte a un'affermazione di Gianni, hai detto in effetti io sono uscito che non ero neanche tanto convinto, che l'unica convinta tra me e te ero io, giusto? Sì, ma infatti io ce le avevo i dubbi, che si sono verificati poi dopo quando sono uscito. Quindi nella realtà tutto questo fungimento, se andiamo a stringere, non c'è stato, perché ci siamo frequentati un mese e mezzo qui dentro, fuori da qui, ci siamo visti tre volte, non è mai esploso. Ascoltami, allora, Jasna, veramente, non voglio litigare, non voglio togliervi il tempo, voglio veramente chiuderla, perché magari mi do anch'io verso gli altri, però sinceramente non lo vedo vero. Non lo vede vero, vedi? No, guarda, vado fuori completamente, comunque, io vedo meno vero standardizzare l'uscita con ogni uomo e trovare questo entusiasmo ogni momento, è tutto bello, è tutto fantastico e vedere me che sono freddo, perché io penso prima di dire, non so, amore a una persona, lo valuto, lo sento, lo vivo dentro di pancia e allora magari quando mi scontro con una persona, parlo con te Maria, quando mi scontro con una persona che dà il facile entusiasmo, ma senza nulla togliere la sua faccia e l'entusiasmo, ha bisogno di una persona che conti 450 ore e non ho ancora trovato un difetto. Io non sono quel tipo di persona, non sono quel tipo di persona, ma non ho niente conto cristiano, non siamo compatibili per questo, però non vuol dire che lei abbia il modo giusto di amare e io no, perché ti assicuro che ne ho fatte di cose.